donne che aiutano altre donne e ciò che mette porta avanti sin dall'inizio l'organizzazione che presiedo inizia nel 2015 il nostro impegno con un preludio nel 2014 adesso siamo nel merito di un progetto finanziato dalla comunità europea sui generis school c'erv 20 21 dafne mettene partner iniziamo subito la cerimonia d'apertura sarà il 2 luglio ai cantieri culturali con una performance di danza la coreografa è teridemma ma sarà accompagnata anche da una campagna testuale ci saranno dei poster che le danzatrici mostreranno è un progetto lungo sono diversi mesi si concluderà nel mese di dicembre i territori interessati catania ragusa e palermo ma anche la metodologia online avremo la collaborazione come sempre di sofia bad che dalla francia coordinerà diverse conferenze dei degli eventi online verranno anche moderati da jana cardinale saranno tante le attività la donna all'oggetto il cuore centrale del nostro impegno ma anche le bambine andremo nelle scuole all'interno ci sarà un osservatorio un osservatorio dedicato al ai movimenti giuridici al legal empowerment quanti diritti non sono conosciuti dalle donne in particolare straniere che si trovano invece a dover affrontare delle vite in territori altri con legislazioni differenti e molto spesso non tutelate anche dagli stessi datori di lavoro per questo il nostro movimento giuridico sarà importante ma parleremo anche di affermazione attraverso la guida di un coach certificato e quindi seguirà anche un concorso di idee perché perché giusto così è giusto che ci sia anche l'affermazione della persona siamo arrivati dopo a questo a questo ragionamento tante produzioni video come quello che stiamo realizzando adesso un linguaggio che ci appartiene grazie al nostro filmmaker alfredo di forti e poi degli eventi importanti come quelli affidati ad angelo butera ne avremo due nel mese di luglio passo a due ma particolarmente del cuore questo per me è grazie Franca un tributo a Franca Viola grazie a lei tantissimi anni fa è proprio cambiata la ribellione queste unioni forzate nel nostro territorio sono venute meno perché la donna ha compreso che poteva ribellarsi noi uniamo sempre nel nostro impegno la parte scientifica la parte artistica perché riusciamo così ad interessare non soltanto gli addetti ai lavori o comunque gli utenti ma anche ad un pubblico più vasto un pubblico che è presente ai nostri incontri alle nostre performance riesce in questo modo a seguire in un altro modo quello che è il nostro impegno la responsabile del progetto è Sara Baresi la ringraziamo per aver sviscerato la parte burocratica non facile della progettualità a Silvia Amato Petragnani è affidata in maniera maestosa tutta la parte della comunicazione grafica è importante saper comunicare la comunicazione digitale ti lega al mondo e quindi per noi è fondamentale seguiteci attraverso i nostri siti attraverso mete associazione attraverso il nostro tabloide digitale cultural democracy anche attraverso il sito dell'osservatorio anche nel mio personale ma anche nei social perché è una comunicazione che viene raccontata come dicevo all'inizio il nostro progetto è un richiamo alle donne un abbraccio alle donne donne che abbracciano altre donne e ad una abbiamo voluto ricordare ed è Angela Ferrara Angela è una donna che purtroppo non c'è più che qualche anno fa è stata uccisa dal marito perché lei voleva essere libera nella scrittura una donna che seguiva mete che era amica di mete e io ricordo di aver presentato un suo libro con una presentazione che è stata l'autorizzazione a Matera in biblioteca e lei era stata uccisa qualche giorno prima io sono stata a quella presentazione ed è ad Angela Ferrara che noi dedichiamo il nostro progetto donne che aiutano altre donne grazie a tutti